Questo tempo d'avvento è per camminare e andare incontro al Signore, perché la fede cristiana non è una teoria, una filosofia, è l'incontro con Gesù. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, all'inizio del tempo di avvento. Il Pontefice ha osservato che in questo periodo la liturgia ci propone numerosi incontri di Gesù, con sua madre nel grembo, con San Giovanni Battista, con i pastori, con i magi. Per incontrare davvero Gesù, ha spiegato il Papa, dobbiamo metterci in cammino con tre atteggiamenti. Nella preghiera all'inizio della Messa la liturgia ci segnala tre atteggiamenti, vigilanti nella preghiera operosi nella carità e soltanto nella lotte. Cioè devo pregare con vigilanza, devo essere operoso nella carità, la carità fraterna. Non solo dare una lemosina, no? Anche tollerare la gente che mi dà fastidio, no? Tollerare a casa i bambini quando fanno troppo rumore o il marito o la moglie quando ci sono difficoltà o la suocera. Non so, va a tollerare. Tollerare sempre la carità operosa e anche la gioia di lodare il Signore. È soltanto nella gioia. Così dobbiamo vivere questo cammino, questa volontà di incontrare il Signore per incontrarlo bene e non stare ferme. E incontreremo il Signore.